La prognosi resta riservata per un operaio di 39 anni di campo marino ricoverato in gravissime condizioni alla Neuromed. Il trasferimento è stato disposto dai medici dell'ospedale di Termoli dove il giovane è giunto con un politrauma. Restano da accertare le cause delle fratture che ha riportato alla testa e su tutto il corpo. Gli agenti della squadra mobile del commissariato di Termoli cercano di ricostruire le ultime ore prima dell'arrivo al pronto soccorso. Si valuta l'ipotesi di una caduta accidentale dalle scale una volta tornato a casa così come sarebbe emerso dal racconto fornito dal 39enne ancora cosciente ai medici dell'emergenza. Per l'entità dei traumi e delle ferite riportati gli agenti vogliono però approfondire la possibile dinamica per escludere conseguenze che potrebbero essere compatibili anche con una eventuale aggressione. Tutto ancora da stabilire. Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza sull'accaduto valutando anche i filmati della videosorveglianza un contesto da approfondire per capire cosa si è successo all'operaio tenuto in coma farmacologico dall'equip del centro specializzato di Pozzilli. Intanto la comunità di Campomarino con un post condiviso anche su Facebook si riunisce in preghiera per essere vicina al giovane e alla sua famiglia.